Amici di Settegold, buonasera. Vista l'emergenza migranti sulle nostre coste, siamo davvero un paese in grado di organizzare l'Expo? In grado di organizzare un giubileo o c'è qualche problema? Beh, intanto vi dico che siamo stati nei cantieri di Expo proprio ieri e vi faremo vedere delle immagini in esclusiva. Tanti ospiti importanti qui nell'angolo artigiani, l'Italia che lavora, ci sono gli agricoltori. Benvenuti. I nomi? Grazie. Vanni. Giorgio. Ecco, voi di dove siete? Verona. Dovresti essere i protagonisti di questo Expo? L'Expo per nutriere il pianeta, di cosa dovrebbe parlare Expo? L'Expo dovrebbe parlare di agricoltura, visto che si parla di cibo. Purtroppo ci sono altri attori, ma non ci sono le aziende agricole, perché le aziende agricole stanno scomparendo. Basta guardare il prezzo del latte, che al litro costa 0,35 al produttore. Allora, hai portato il latte con il prezzo al litro, ok. E poi invece? E l'acqua costa 0,38, costa di più l'acqua del latte. Quindi Expo dovrebbe parlare di questo? Dovrebbe parlare di questo, dovrebbe trovare delle soluzioni, ma non c'è nessuna volontà per risolverle. Senti, cos'è questo? Questa qui è colza, coltivata qua in Italia, rende il 40% di olio e il resto va per l'alimentazione animale. Però il problema è che a noi costa il 35-40% in più produrla, perché non abbiamo una legge in Italia che proibisce dissimilarla, però non proibisce il commercio. Quindi gli italiani lo mangiano tutti senza saperlo. È vero che con questa tu ci fai partire un motore? Certo, abbiamo un motore che fa corrente elettrica. E si potrebbe utilizzare anche nei trattori, nelle auto? Perché non si fa? Perché non si pagano le cise allora. Non si pagano le cise allora, tu faresti partire questo, con questo al posto della benzina. Esatto. Quindi sono due degli esempi che riguardano... Inquinamento zero. Nutrire il pianeta, ecco, potrebbe parlare anche di questo, lanciamo un po' di proposte, ma facciamo le cose con ordine, partiamo con la sigla, subito dopo abbiamo tantissimi ospiti a presentarvi, e poi le immagini in esclusiva dei cantieri Expo al lavoro, fatti ieri domenica, tra poco. In Europa, scegli la qualità dei farmaci Teva. Yes, unamboli, buonasera, benvenuti, sette gol, ok, ci siamo, ok. Inizia una puntata nuova, sì, sempre più guai, ne abbiamo avuto un'altra prova, sì, avete sentito il casino che è successo, lo stivale come è messo, sì, parliamo di sicurezza, perché non abbiamo più nemmeno quella certezza. Sicurezza ed Expo che inizia il primo maggio, speriamo che ci porti qualche vantaggio, questa sera affrontiamo queste questioni, queste situazioni, presento gli ospiti, inizio da formigoni, sì, formigoni a morra, facciamo qualcosa, lasciamo che il sangue scorra, sì, da morra passiamo a facchini, dobbiamo risolvere questi casini. Ucci, ucci, mi sembra di aver visto qui Fiorucci, benvenuto, buonasera, speriamo in Italia, speriamo che si apra con l'Expo una nuova era, sì. Da Roma abbiamo Oliverio, il clima è caldo, abbiamo bisogno di Reprigerio, sì, dove, quando, sette gol, funambuli, prego Leandro, yes. Grande, grande Valesse con il nostro rap di apertura, presentazione degli ospiti, grazie per essere dei nostri anche questa sera. Come va? C'è un saluto che si fa tra rapper? Com'è? Però molto più sciolto. Fai? Spera. C'è qualcuno che vuole, Formigoni, vuole provare lei? No, per carità. L'ho vista già lei in difficoltà. Speri, rifacciamo, vai, vai? Sì. Sì? Va bene così, poi rifacciamo. Grazie alla nostra introduzione di Valesse. Allora, accomodati perché alla fine dovrai fare in freestyle il riassunto, cioè quello che ti rimane della puntata, un po' di cose già le sentite dai nostri agricoltori. Vedremo che succede. Vi abbiamo detto che vi facciamo vedere un po' di immagini che riguardano i cantieri di Expo, però innanzitutto vorrei capire se gli ospiti del mio studio li hanno comprati questi biglietti di Expo. Per esempio, buonasera Nicola Morra, benvenuto. Buonasera, buonasera. Prima di approdare in Senato e su Twitter scrive anche dopo docente di storia e filosofia. Dice sono stato perché voi cambiate spesso i ruoli, no? Sì, noi trimestrale. Al Senato turniamo ogni tre mesi, io sono stato il secondo storicamente parlando dopo Vito Crimi che è stato il mitico primo. Però un po' poco tre mesi per capire come funge, no? Sì, magari c'è la possibilità di lavorare ad ipotesi di allungamento della durata dall'incarico, però è fondamentale che ci sia una turnazione affinché in tanti o tutti comunque si possa fare questa esperienza. Voglio dire, se Roberto Formigoni avesse fatto per soli tre mesi il Presidente di Regione Lombardia, forse, cioè, non è che se... Forse tanti lombardi potrebbero... Fatelo almeno sei mesi. Ma magari c'è una via intermedia, quattro mesi, intanto ci siamo dati queste regole, poi successivamente potrebbe essere, l'importante è che ci sia comunque una responsabilità condivisa, quindi adesso a me, domani a te, poco alla volta così si impara facendo. Biglietto Expo comprato? No. No. Roberto Formigoni, buonasera. Buonasera a lei. Profilo. Buonasera a tutti voi. Senatore del nuovo centrodestra, Presidente della Commissione Agricoltura in Senato ed è stato Presidente della Regione Lombardia non per tre mesi, ma per 18 anni, dal 95 al 2013. Qualche giorno in più. Giusto, giusto Formigoni? Giusto, giusto. Su Expo invita a non diffondere il pessimismo e proprio oggi ha dichiarato che siccome avremo un record di partecipazioni, ebbene abbiamo scelto di essere accoglienti, quindi non diffondiamo il pessimismo. Lei ce l'ha il biglietto di Expo? No, non l'ho ancora comprato. Sarebbe, mancano pochi giorni. Sì, certo, ma vede, io sono stato invitato, appreso oggi dall'Agenzia, la cerimonia inaugurale del primo maggio, non so se seguirà visita. Lei dice si entra gratis il primo maggio. No, no, mi lasci terminare, perché deve essere subito malizioso. Stavo terminando dicendo che mi riservo, ovviamente, successivamente, di andare per una visita più tranquilla, perché il primo maggio sarà comunque convulso e limitato forse soltanto a famiglia in Italia. Ce la facciamo? Il primo maggio sarà pronto? Il discorso qui è un po' completo. Allora, facciamo una cosa, lo affrontiamo quando guardiamo insieme le immagini, finisco di presentare gli ospiti. Da Roma, ho il piacere di avere Nicodemo Oliverio, benvenuto. Buonasera, buonasera. Ben trovati. Buonasera, deputato del Partito Democratico. Ed è capogruppo della Commissione Agricoltura alla Camera, di formazione democristiana. È stato allievo di Aldo Moro e proprio in seguito alla sua tragica morte decise di scendere in politica. A proposito di Expo, si dice certo che per gli anni futuri se ne avranno delle positive ricadute sull'economia del nostro paese. C'è una battuta che fa il nostro Moro in studio, dice un giovincello della politica. Giusto? Sì, giovane anche nonno. Però vorrei dire che non è che si calcola l'impegno e la passione sugli anni anagrafici. Ha visto che Moro dopo tre mesi ha dovuto lasciare l'incarico. Lei è dal 78 che fa politica. Chiedo scusa, sono parlamentare soltanto dal 2005. Ah ok. In ogni caso... Sono solo dieci anni. In ogni caso Morra sa, essendo parlamentare della Calabria, con quanto impegno rappresento quella regione e i territori di tutta la Calabria, diciamo, e con tutte le tematiche connesse. Risposta veloce di Morra su questo? Beh, io penso che la Calabria abbia diritto ad un'altra classe dirigente. Non che tutti gli anziani debbano essere semplicemente perché gli anziani mandati a casa. Però magari rinnovare e dare a tanti la possibilità di lavorare per la causa comune sarebbe auspicabile. Se magari, mamma santissima della politica calabrese, lasciassero spazio anche ad altri, l'attuale presidente della regione Calabria, se non ricordo male, è entrato la prima volta in consiglio regionale nel 1980, quindi si tratta di 35 anni fa, ci abbiamo necessità forse di cambiare. Ricambio, ricambio politico? Beh, c'è Costanzo che ha ripreso il Costanzo Show, però, eh, sto paese. Credo che le ultime elezioni regionali hanno messo in campo delle forze politiche e ogni forza politica ha avuto delle percentuali di voto. Morra sa e conosce bene sia il risultato del Movimento 5 Stelle a Reggio Calabria e sia quello conseguito nella regione Calabria. Allora, vi fermo qua, non vorrei parlare troppo delle elezioni in Calabria ancora in questo momento perché ho anche, tra l'altro, altri ospiti a presentare. Ho l'onore davvero di avere in questo studio lo stilista Elio Fiorucci, l'imprenditore Elio Fiorucci. Buonasera, benvenuto. Grazie. Non se l'aspettava questa presentazione. No, non me l'aspettavo. Profilo, Steffi. E poi ci sarebbe veramente da parlare per ore. Stilista, imprenditore, patron di un marchio che ha fatto la storia della moda rivoluzionandola, è stato bandiera ed è bandiera della creatività italiana e milanese nel mondo. Con il suo primo negozio a Milano, in piazza San Babila, nella Milano degli anni 70, rivoluzionò, diede il via di una vera e propria rivoluzione dello stile dei giovani e fondendo moda, architettura, arte e musica. È vegetariano convinto e questa sera è qui nelle vesti di ambassador di Expo. Ce l'ha il biglietto? O anche lei è stato invitato e quindi... No, io non l'ho ancora presa anch'io. Va bene, va bene. Allora, ho anche altri offi... Ho dimenticato una fase importante che forse vale la pena ricordare, che nella sua fase new yorkese la sua vita si è incrociata con quella di personaggi del calibro di Andy Warhol, Truman Capote, Lisa Minelli, giusto per citarlo. Chi era il più simpatico? Beh, Lisa Minelli, diciamo, è un personaggio che voglio dire. I personaggi, poi quello che bisogna dire è questo, più importanti sono, più umili sono. Ho scoperto che c'è questa caratteristica. Le persone, quando si danno molta importanza, non ne hanno. Quando sono molto umili, vuol dire che sono persone importanti. Come abbiamo qui il nostro presidente, che lo vedo sempre semplice nella sua attività e nella sua vita. Ecco, le stavo chiedendo un esempio politico. Formigoni è un esempio impositivo perché dice umile. Uno che non è umile in politica? In politica sono quelli che si credono di poter dettare legge, di poter dire che va buttata la gente in mare perché a un certo punto non sono italiani, non hanno la pelle come la nostra. Cioè, queste sono persone veramente da evitare. Lo dico subito all'inizio della trasmissione perché mi sono seduto qui. Quando ho sentito dire che c'è questo tema, ho detto subito, vorrei non esserci per non poter dire delle parole gravi verso chi ad un certo punto ha il coraggio di dire meno male che non sono arrivati in Italia. Ci arriviamo. È una vergogna. È una vergogna per l'umanità. È una vergogna per la cristianità. È una vergogna per tutti quelli che hanno almeno un pizzico di buon senso. Nel paese di Expo puoi dire queste cose e poi ci ragioniamo a un valore. Nel paese di Expo, nel paese del Giubileo. Vi dicevo, abbiamo tante cose a presentarvi. Ci sono anche i nostri ragazzi di una radio web, giusto? Tra poco arriviamo da voi. Però, mentre parliamo, vorrei cominciare a farvi vedere queste immagini. Proprio facciamole solo partire. Leo, hai dimenticato Duccio. Arrivo, arrivo. Volevo proprio farvi commentare le immagini. Sono le immagini che abbiamo girato ieri al cantiere di Expo. Cominciamo a vederle. Perché ci danno subito il sapore di quanto manca. Mancano 10-11 giorni. Queste sono alcune delle cose che abbiamo trovato. Vedete ancora la scritta Expo. Queste sono le gru sopra il padiglione Italia. Qui c'è addirittura un cancello aperto. L'abbiamo girato ieri mattina. Quello a sinistra è il padiglione Italia. Ci avviciniamo. Ecco, dopo questo cancello ci sono tante cose. Questo sono io. Vedete come passo la domenica mattina. Vedete, entrare non è proprio difficile. Almeno, immagino che sia una cosa dovuta al fatto che ancora non c'è inaugurazione. Stavo pure a casca. Di qua si entra da Expo. Subito dopo la pubblicità, oltre a finire di raccontarvi i nostri ospiti, vi facciamo vedere che lì ci sono... Ecco, no, le stiamo già vedendo. Ci sono dei posti ancora quasi da iniziare per quello che riguarda la costruzione. Tutto questo tra poco. C'è la pubblicità. Poi abbiamo anche un collegamento con Shanghai perché lì c'è stato l'Expo. Vediamo che ne è stato di quella struttura. Tra poco. Ben ritrovati. Allora mancava un ospite, almeno per ora. Duccio Facchini, buonasera e benvenuto. Collega di Altre Economia, presentazione a parte di Steffi. Giornalista e scrittore, scrive per Altre Economia, un mensile, autore di alcuni libri di inchiesta e segue da vicino le vicende legate ad Expo. In particolare ha realizzato un dossier sulle sponsorizzazioni di questo grande evento, le sponsorizzazioni più ricche di qualsiasi edizione fino ad ora realizzate. La più ricca qual è? La sponsorizzazione più ricca di Expo? Eni. Eni. Dal punto di vista dei soggetti, diciamo così, sopravvanzato anche da Fiat, adesso che ci rifletto, anche da Samsung. Insomma, ci hanno investito e come? Assolutamente. Vediamo qual è lo stato dei lavori mentre parliamo, anzi vorrei commentare con te e con gli altri ospiti le immagini che stiamo vedendo prima, le abbiamo girate ieri, facciamole andare avanti. Allora, vedete, questo è l'Expo a meno 11 giorni, ci sono dei padiglioni finiti, ci sono dei padiglioni non finiti. Il fatto quotidiano, titolo a uno su quattro ce la fa, ma Obama non lo sa, prende questi dati, dati ufficiali della società che insomma fa monitoraggio per quello che riguarda quello che succede dentro Expo. Vedete qua ci siamo avvicinati, ancora di più, e qui c'è davanti a voi, ecco, vedete, abbiamo ripreso questa struttura che non sembra proprio finita. Allora, Facchini, questa situazione come la valuti? Cioè, è così che dovrebbe andare? È così che dovremmo avere, dovrebbe essere a questo punto Expo a meno 11 giorni? Beh, credo che la risposta possa essere, come dire, possa darla a qualunque persona di buon senso. Dubito, alla luce dei cronoprogrammi pubblicati, dei dossier di candidatura presentati, che la situazione a pochi giorni dall'inizio della manifestazione dovesse essere questa. Dopodiché, come dire, l'immagine di una certa improvvisazione credo che sia abbastanza, come dire, palese. Improvvisazione, dici? Per ritrovarsi agli sgoccioli dell'inaugurazione. Poi, indipendentemente, lo dico dal giudizio che ciascuno possa avere dell'esposizione universale, ma non credo che ci siano precedenti nella storia pur non fortunata. Vediamo subito se ci sono precedenti. Quelli che vede sono operai. Ci colleghiamo con Shanghai. Io ringrazio davvero, e poi apriamo il dibattito, l'avvocato italiano Daniele Zibetti, che è collegato con noi. Lì, ricordo, che sono le tre e mezzo di notte. Vediamo se lei ha una faccia da tre e mezzo di notte. No, si mantiene bene, devo dire. Eccolo là. Grazie davvero. Allora, siamo collegati con Shanghai, giusto? Sì. Benvenuto, prima di tutto. Saluto a tutti gli ospiti. Mi racconti, ti do del tu, se posso. Mi racconti quello che è successo a Shanghai, cioè a meno 10-11 giorni dall'inizio. Era così la situazione? Abbiamo visto delle immagini di un expo non proprio finito. I giornali addirittura dicono un padiglione su quattro sole pronto. Com'era lì? Direi che dal punto di vista organizzativo, credo che non ci siano dubbi che ci fosse uno scenario molto diverso. Così come durante le Olimpiadi del 2008, anche per Expo 2010, la Cina è stata molto efficiente, ha messo in moto una macchina evidentemente particolarmente capace. Cioè erano finiti questi padiglioni? Erano ampiamente finiti. Da quanto tempo? Certamente questo è un tema su cui il confronto tra le due esposizioni penso che sia abbastanza impietoso. Poi magari ci sono invece altre riflessioni che magari faremo più avanti su quello che poi è il significato o l'eccessivo caricare di significati una manifestazione come un po' aspettandosi che porti un volano continuativo di visibilità, eventi o sviluppo di un luogo che nemmeno a Shanghai è avvenuto. Questo però è una... E' chiaro che se noi fossimo già il primo maggio le immagini che avete mostrato sarebbero le immagini di un disastro. Io credo che non sarà così, sia perché gli organizzatori continuano a ripetere che non sarà così, sia perché sappiamo che gli italiani, forse è un difetto ma è anche una virtù, quando sono messi sotto sferza, riescono a raggiungere comunque il risultato. Quindi io credo che il primo maggio l'inaugurazione potrà essere l'inaugurazione di qualche cosa di degno. Non tutto sarà terminato, andrà vatti nel corso del tempo. Dopodiché mi permette di aggiungere un altro particolare su Shanghai. Perché ogni expo ha la sua storia. Per esempio, gli organizzatori di Shanghai che io incontrai, come lei ha detto, nel 2010, mi raccontarono che dopo le prime settimane il numero dei visitatori era largamente inferiore alle loro attese. E quindi fecero dei summi per capire come potevano ovviare a questo disastro. Cosa decisero? Decisero di distribuire i biglietti gratis agli operai delle fabbriche. Lei sa che in Cina, anche se in Cina ormai c'è uno sviluppo capitalistico straordinario, il partito ha ancora molto potuto. Un suo valore. Quindi distribuirono i biglietti gratis agli operai. Le presenze crebbero di un po', ma mica tanto. Altra riunione di urgenza, Comitato Centrale e Partito Comunista, tutte capirono che dovevano dare anche un giorno di ferie agli operai, oltre che il biglietto gratis. Certo, organizzargli i pullman e portarli, non dico a viva forza a visitare l'Expo, ma insomma il biglietto, il giorno di ferie, il puno hanno organizzato e così le presenze cominciarono a impennarsi. Dopodiché Shanghai arrivò a delle cifre mostruose di visitatori. Però lei non è preoccupato per nulla sui tanti che abbiamo visto. Non ho detto per nulla, ho detto che ritengo che il nostro Expo sarà qualcosa di positivo, in cui gli aspetti positivi prevareranno assolutamente sui negativi, anche se il primo maggio vedremo che cosa è pronto e che cosa non è pronto. Oggi ad esempio ho letto il comunicato con cui l'azienda che sta costruendo il Padiglione Italia ha comunicato ufficialmente di aver terminato la costruzione del Padiglione Italia. Questo era uno dei padiglioni su cui c'erano le preoccupazioni più vite. E' ancora le gru ieri sul Padiglione Italia. Zibetti, Daniele, a proposito del Padiglione Italia, mi racconti un po' la storia, ma in 30 secondi, di questo Padiglione Italia in Cina? Quanto è costato e che ne è rimasto? Quanto è costato non ho dei dati precisi perché onestamente direi una cosa inesatta. Quello che oggi vediamo è che era un padiglione che doveva restare permanente e quindi in realtà è tuttora uno dei padiglioni che non è stato smantellato. In realtà è storia di questi giorni che non si sa bene con quali ragioni e per quali motivazioni, ma i cinesi, per semplificare, che hanno in gestione in questo momento il Padiglione Italia perché gli è stato donato dal nostro Stato e poi loro l'hanno utilizzato chiaramente per eventi per cui venivano anche remunerati, ma con l'impegno di mantenere una gestione che enfatizzasse e desse lustro all'italianità, è stato fatto per qualche anno e adesso in realtà pare che vogliano smantellare tutto quello che c'è all'interno, quindi tutti quegli elementi che erano appunto caratterizzanti dell'italianità e utilizzarlo come un normale spazio comune. Ma io questo penso che sia una cosa anche abbastanza naturale, non credo che si debba caricare di eccessivi significati un'expo per gli anni a venire importante e che venga bene nel periodo in cui viene fatto. Sentiamo che ne pensano gli ospiti in studio, Morra. Io ho una visione ben diversa dal collega Formigoni, appunto da chi ha in qualche modo anche avallato questo progetto. Io sono dell'avviso che le esposizioni universali debbano essere proprio ripensate, perché se hanno un valore ce l'hanno nella misura in cui riescono a promuovere accanto a sé, in preparazione di sé, eventi complementari che educhino al messaggio che l'expo stessa deve trainare. Per cui ecco mi sarebbe piaciuto tanto che questo momento fosse preceduto, accompagnato da un dibattito importante sul valore dell'alimentazione oggi in Italia e su come essa debba essere difesa dagli attacchi che l'industria sta effettuando nei confronti di una civiltà che è quella contadina, che è quella rurale, che era ben rappresentata da quei due operatori del settore. Adesso ci torniamo, parleremo proprio di che bisogna parlare adesso. Ci hanno fatto capire come oggi chi produca latte in Italia sia una sorta di disperato, perché non abbiamo più quei valori per cui si anteponeva il latte un tempo ad altro. Invece oggi una lattina di Coca-Cola vale ben di più di prodotti sinceri, di prodotti genuini, di prodotti che in qualche modo hanno una valenza culturale e simbolica forte. E poi l'expo, me lo lasci dire, è una grande opera, è come tutte le grandi opere, ha prodotto corruzione. Voi siete sempre stati anti-expo. Ma noi siamo stati e siamo anti grandi opere inutili. È inutile l'expo? A me sembra che i fatti odierni lo stiano a dimostrare. Punto primo, ci sono tanti dubbi sul risultato economico, perché bene o male è stato fatto un investimento e chi si intende di economia se fa un investimento vuole anche un ritorno. Io ricordo che questo paese ha sponsorizzato in passato anche grandi eventi, penso su tutti i mondiali di nuoto a Roma nel 90, che si sono rivelati un flop enorme, un flop di cui i romani conservano testimonianza, ahimè, anche oggi. Però poi, oltre che il dato economico, per esempio, si deve lavorare sul dato simbolico. Allora, vuoi fare expo dedicandola ai problemi dell'alimentazione, e nutriamo il pianeta, farlo nel sistema delle cascine, nel sistema delle aziende agricole che ci sono in pianura padale anche nei pressi della grande metropoli che è Milano, attraverso appunto quel sistema diffuso e capillare che noi volevamo proporre come alternativa, perché noi non siamo solo protesta, ma siamo anche proposte. Vediamo poi esattamente di cosa si parla dentro Expo. Oliverio da Roma, mi interessa capire la sua opinione su quello che stiamo sentendo da Daniele Zibetti a Shanghai, e cioè che tutto era pronto mesi prima, e poi questo padiglione Italia, costruito con tanti soldi, è stato un po' abbandonato, anzi smontato. È giusto che sia così? Vediamo intanto il primo maggio cosa c'è da vedere a Expo, ma credo che un risultato positivo Expo l'ha già conseguito in Italia, nell'agricoltura, fino a qualche anno fa, fino anche a un anno fa, non si parlava più di agricoltura in Italia, e l'agricoltura era considerata figlia di un dio minore, non esisteva nessun giovane che pensava di dedicarsi, di ritornare ai campi. Oggi invece anche in Italia si parla di agricoltura, c'è una politica che favorisce il ritorno all'agricoltura da parte dei giovani, c'è un ricambio generazionale che avviene ed è forte, ci sono tante condizioni che ci fanno capire che già un primo passo è stato fatto nei singoli territori, e anche l'attività parlamentare è cambiata in questi ultimi anni rispetto a prima. Basti pensare il numero di leggi che ha approvato il Parlamento e che riguardano l'agricoltura, ora vedo inquadrato il latte, ma sul latte anche qualche giorno fa abbiamo fatto una risoluzione a seguito delle manifestazioni che si sono verificate in tutta Italia e abbiamo colto quali sono le precarietà di questa vicenda, il fatto che ci sono contratti che durano solo tre mesi, che la grande distribuzione stringe fortemente gli agricoltori, che non ci sono sanzioni forti per coloro i quali praticamente utilizzo il potere contrattuale contro la filiera. Ecco, volevo dirle che lei non ha visto che in studio ci sono sia gli agricoltori sia Morra un po' contrariati, ora mi farò dire perché. Siamo entrati, vedo, nel tema di quello che sarà il contenuto di Expo, però io vorrei, se Daniele da Shanghai ha ancora qualche minuto a dedicarci, posso tenerti per una decina di minuti? Con piacere. Allora, dopo la pubblicità vorrei che ci raccontassi adesso, a cinque anni da Shanghai, cosa caspita c'è nell'area, tanto per capire quello che succederà anche in Italia. A tra poco. Bentornati, sono tanti i problemi che si declinano da Expo, per esempio c'è un problema sicurezza, tra un po' ci arriveremo, l'assessore a welfare di Milano ha detto, beh, ma dobbiamo fare un Expo con i profughi per strada, c'è anche un giubileo in arrivo, siamo in grado di gestire questo, tra poco ci arriviamo. Intanto però vorrei un commento di Elio Fiorucci a proposito di quello che ha sentito finora e sul dibattito di Expo che c'è stato finora in questo studio. Ma io credo che ci sia un pessimismo quasi tipico italiano su tutto quello che noi facciamo. Ecco, adesso parlavo con l'onorevole e mi diceva, e lo conosco anch'io, che la Lombardia è la più grande regione agricola di tutta l'Europa. La Lombardia è un paese agricolo, la Lombardia è un paese ricco, è un paese civile, è un paese importante. L'aver immaginato l'Expo a Milano è stata una grande idea, una grande immaginazione. Gli architetti che sono stati scelti sono guardati con ammirazione, ci sarà gente che verrà solo per vedere l'architettura, la bellezza della nostra architettura. Cioè c'è una curiosità spaventosa per l'Expo. Per cui non siamo miseri e sempre critici in quello che facciamo in Italia. In Italia siamo bravi, siamo amati in tutti i sensi, siamo ammirati. Adesso perché siamo un po' in ritardo, perché c'è qualche cosa, è al disastro, è al disastro, è al disastro. Questo a me fa un po' tristezza, perché è un po' il vizio dell'italiano che si deve sempre sottovalutare da una parte e poi si dà di importanza dall'altra. Allora io dico questo, abbiamo un'opportunità fantastica di aver avuto assegnata, non dimentichiamolo mai, l'Expo a Milano, che è stata una grande vittoria rispetto a tutte le altre città. Abbiamo avuto un argomento che se voi ci pensate, la conservazione del pianeta, la salute del pianeta, dopo parliamo, la salute del pianeta e la salute dell'uomo. Cioè voglio dire questo, il nutrimento dell'uomo e il nutrimento del pianeta. Cioè sono dei temi straordinari che scateneranno, anche dopo l'Expo, una quantità di dibattiti, una quantità di... C'è già il fatto che se ne parli una conquista, possiamo dire così? Sì, no, io dico, basta che se ne parli una conquista, basta che ci sia stata regalata questo titolo meraviglioso, una conquista, abbiamo i migliori architetti che stanno lavorando, adesso stiamo lì a cincischiare se sarà finito sì, se lo scalino è finito no. Cioè voglio dire questo, è stato un grande evento che è stato regalato a Milano, per la quale tutta Milano deve veramente festeggiare e gridare e gridare. È un evento per il paese. Una veloce risposta di Facchini, sì? No, soltanto svolgo la professione giornalistica e quindi cito due dati, non so se questo possa risultare misero e eccessivamente pessimista, però la Lombardia è anche la regione, questi sono dati forniti dal Consiglio regionale Lombardo, quindi non temo, come dire, non da un collettivo trotschista, ma dal 1999 al 2012 è la regione che quindi in 13 anni ha consumato suolo agricolo per 47 mila ettari, altri 53 mila sono previsti nei piani di governo del territorio e dei comuni, la Lombardia rischia quindi di mangiarsi 100 mila ettari di suolo agricolo nel giro di 15 anni. Siamo sempre la prima regione agricola d'Europa, nonostante questo, la Lombardia è sempre la prima regione agricola, dopodiché è anche la prima regione industriale la Lombardia. Cioè la meraviglia della Lombardia è di tenere equilibrio tra l'essere la prima regione industriale d'Italia e la prima regione agricola d'Europa. Il tema del contesto... Basta, basta col pessimismo, basta... Non è pessimismo, non è pessimismo, io non lo so, a un certo punto appena si può parlare di qualche cosa in meno sulla Lombardia, siamo tutti pronti a farlo, ma apriamo pertanto una volta una cosa positiva, come è stata questa iniziativa, che è stata una cosa caduta dal cielo, e diciamo, viva l'Expo, viva quello che è stato fatto, viva quello che è stato pensato, ma io ho visto delle architetture, ho avuto la fortuna di entrare, che sono rimasto a bocca aperta io, io sono stato anche a Shanghai a vedere là, perché mi avevano invitato, ma la nostra è cento volte più bella, cento volte migliore, ma cosa diciamo, la gente uscirà da Milano dicendo accidenti, questi italiani sono fantastici, non ci sono solo gli italiani che lo scopriremo solo vivendo, non ci sono gli italiani, proporrei però di uscire da questo ricatto, del se si citano dei numeri talvolta anche, come dire, deprimenti e negativi, allora automaticamente si è miseri e pessimisti, ragionare sul contesto in cui sorge questa esposizione universale, credo sia utile anche per capire la coerenza di questo evento, con, ripeto, il contesto in cui avviene, riferire dei dati relativi a quanto la Lombardia ha perso, per delle scelte discutibili, che non hanno prodotto economia. Però non c'entra Expo, cioè questo è un discorso più alto. C'entra assolutamente Expo, perché Expo, nel suo dossier di candidatura, si è portato come fosse una zavorra, anche delle infrastrutture, che per esempio ricadono nel parco agricolo sud di Milano, che è un bacino agricolo, che dovrebbe, come dire, fornire sostentamento per la popolazione, che con il tema nutriere il pianeta hanno poco a che fare, magari infrastrutture che, non solo dal punto di vista economico e finanziario, come può essere la Tem e la Brebemi, ma anche dal punto di vista delle ricadute ambientali, mostrano dei segni di debolezza, come dire, quantomeno che meritano una discussione. Poi, Dottor Ferrucci, se questo è pessimismo, ma io lo spargo il capo di cielo. Milano, io viaggio molto, viene citata sempre, capitale di tante cose, capitale della moda, capitale del design, capitale della ricerca, capitale di tutto. Possibile che adesso ci lamentiamo, perché a un certo punto c'è anche l'Expo, e l'Expo forse non andava fatta per lasciare il terreno agricolo. Cioè, io mi meraviglio di come si possano mettere a confronto cose così fantastiche con cose così piccole. Allora, sentiamo tutti, chiedo a tutti interventi più brevi, così riusciamo a far parlare tutti, ho anche Oliverio da Roma a far parlare, Morra? Allora, noi non abbiamo avversato l'Expo di per sé, noi abbiamo chiesto un Expo diffusa e sostenibile. Appunto, in coerenza con il tema, nutriamo il pianeta, di che cosa lo stiamo nutriendo? Di cemento? Abbiamo sottratto suoli agricoli. No, mi scusi, io prima l'ho fatta parlare, adesso pretendo, perché penso che tutti quanti siamo uguali nei diritti. Ora, noi abbiamo sottratto terreno all'agricoltura, per cui abbiamo, piuttosto che rafforzato un certo messaggio, abbiamo sconvolto quel messaggio. Poi lei diceva, e qua vorrei farla ragionare, ci sarà gente che verrà ad ammirare le architetture, ma noi non dovevamo far ammirare le architetture, perché altrimenti avremmo fatto un Expo dedicata all'architettura degli italiani, poi prendevamo Brunelleschi, prendevamo qualcun altro, prendevamo Zelli, insomma, noi dovevamo semplicemente mostrare come l'alimentazione possa essere un simbolo che racchiude in sé valori, valori che la tradizione italiana vuole proporre, e che per esempio il TTIP, che è uno sciagurato accordo di scambio commerciale con il Nord America, permette di buttare a mare, perché con il TTIP tutte le eccellenze alimentari e agricole italiane verranno sconvolte da una concorrenza straordinariamente più efficace, perché a basso costo e a bassissimi standard qualitativi, che verrà fatta da Obama e dagli Stati Uniti. Ora, se noi volevamo veramente puntare sul riso del Vercellese, su tutte le varietà che ci sono, perché il nostro è il paese della biodiversità, dovevamo dare la parola innanzitutto a loro. Allora, diamo la parola a loro, diamo la parola a loro, perché avevano anche da dire qualcosa a Oliverio del PD a Rivo Fiorucci, facciamo imparare tutti in studio. Avete sentito il dibattito finora? Cosa avete da dire a proposito di Expo? Cioè, siete d'accordo su quello che avete sentito? Anche a proposito di quello che ha detto Oliverio, ha detto che, insomma, la politica si sta occupando dell'agricoltura. Non è affatto vero che la politica si occupa di agricoltura, anzi, non so dove va a prendere i dati l'onorevole, ma certamente chiudono tre aziende al giorno. La difficoltà delle aziende, che quando parlo di agricoltura parlo da nord a sud, io sono in contatto con tutta l'Italia e non c'è nel 2014 un prodotto agricolo, a tranne il vino, che abbia riuscito a coprire i costi di gestione, a dire che i ragazzi si stanno avvicinando a fare l'agricoltore. non sono dati proprio corretti, perché è vero che lo Stato, la comunità europea dà degli aiuti comunitari, però vanno anche dopo restituiti e entro cinque anni devono portare le aziende a bilancio, ci sono molti, agricoltori, che non ce la fanno più e devono ridare di ritorno i soldi con gli interessi. quindi secondo me la politica assieme al sindacato è lei la responsabile di tutto questo che sta accadendo, perché il ministro che si fa vedere in piazza mungere la vacca non risolve il problema o che va al Brennero a fare vedere cosa sta succedendo, cosa sta entrando. Il ministro, se è una persona competente o chi si deve occupare di agricoltura, dovrebbe fare delle regole che vanno a tutela del Made in Italy. noi come Italia siamo pronti perché per me l'Expo è la cosa più ipocrita che si doveva fare. Al primo maggio se ci fosse stata una vera unione di agricoltori dovrebbero essere 3.000 trattori là davanti a far vedere a tutto il mondo la vergogna perché ci stanno rovinando perché stiamo rimettendoci tutte quante le aziende non c'è un'azienda che chiuda un bilancio in positivo. Abbiamo del latte latte 0,35 centesimi un litro di latte un litro di acqua 0,38 come si fa che parlano di qualità la qualità viene siamo capaci di farla ma servono delle regole che in Italia per esempio vale su parlo a 365 gradi in agricoltura le mele che stanno entrando le nostre mele le abbiamo lasciate margire nei campi e quelle che vengono dentro dalla Spagna che sono in Europa possono entrare perché hanno delle deroghe allora non siamo in Europa tutti uguali o se no non serve niente. Diciamo che la politica non si occupa come dovrebbe dell'agricoltura la provocazione che hai fatto tu trattori addirittura davanti Expo cioè addirittura Oliverio una risposta a questo che va davvero contro allo spirito che aveva ricordato Fiorucci e l'Expo nasce proprio per valorizzare il lavoro di tanti agricoltori di tanti stilisti di tante persone che fanno l'Italia questa è la verità noi dobbiamo lavorare per valorizzare il meglio dell'Italia e anche sull'agricoltura non possiamo stare con gli occhi bendati in questi ultimi anni siamo usciti da una logica che pensava soltanto alle quote latte ad una logica che pensa alla biodiversità tant'è vero che alla Camera abbiamo approvato una legge che riguarda proprio la biodiversità e ora sta al Senato abbiamo approvato una legge che riguarda l'agricoltura sociale abbiamo fatto tantissime alte norme che creano le occasioni di sviluppare il nostro territorio e di creare occupazione io non vedo questa disattenzione della politica nei confronti dell'agricoltura e poi c'è un dato emblematico c'è un dato emblematico il 43% in più si registra nelle iscrizioni alle facoltà di agrarie e agli istituti di agrarie significa che l'expo è già entrato nelle viscere del nostro territorio è già entrato nella testa di ognuno di noi e nonostante il fatto che la politica ecco siamo tre che non abbiamo comprato il biglietto ma questo non è che ci si iscrive ad agraria perché c'è un titolo però questo va detto non è che uno si iscrive ad agraria e è matematico che vada a fare l'agricoltore ma posso dare un dato anche io sono figlio di agricoltore e lavoro anche io sono figlio di agricoltore Nicodemo lasciami dire un dato perché io voglio dire ai nostri amici agricoltori che non è necessario portare i trattori il primo maggio all'expo perché gli agricoltori dentro l'expo ci saranno e ci saranno per tutti i sei mesi noi abbiamo invitato tutte le organizzazioni dei produttori agricoli ad essere presenti e saranno presenti nel punto più importante dell'expo che è il Palazzo Italia avranno delle strutture espositive molto ampie tutti i migliori prodotti agricoli italiani e dell'agroalimentare italiani avranno la possibilità di farsi conoscere ai 20 milioni di visitatori quindi abbiamo veramente cercato di rendere il mondo agricolo uno dei protagonisti dell'expo dopodiché alcune delle difficoltà che voi dite sono vere lo so anch'io voi fate bene ogni volta che avete la possibilità di parola a ricordare il problema del latte il problema di tante aziende agricole che stanno soffrendo però c'è una crisi complessiva di tipo economico e vi assicuro che il lavoro che stiamo cercando di fare per esempio in Commissione Agricoltura al Senato è di prendere in considerazione tutti questi problemi e di risolverli settimana scorsa abbiamo dedicato 4 giorni di sedute per esempio per il problema degli olivi in Puglia voi sapete che attraverso il tema della xylella i nostri oliveti pugliesi che sono i migliori del mondo i più belli del mondo stanno subendo un attacco da questo agente patogeno molto forte abbiamo dedicato riflessione al tema del latte cioè c'è una difficoltà del settore agricolo la politica sta cercando di rispondere non sempre ci riesce al meglio ma c'è uno sforzo positivo e torno a dire gli agricoltori saranno tra i protagonisti dell'expo allora Daniele 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 lascia il gai fermi fermi è quello il discorso fatemi fatemi dove è Daniele ci sei ancora? sono praticamente le 4 del mattino a sto punto fai le 4 e 3 perché dopo la pubblicità voglio che mi racconti e poi prometto ti faccio andare a dormire che ne è stato dell'area Expo a Shanghai così ci facciamo un'idea di quello che succederà anche volevo fare un breve commento se è possibile prima che sono totalmente d'accordo nell'impostazione che dà Fiorucci cioè bisogna avere entusiasmo per queste cose chi se ne importa che l'expo è basato sull'agricoltura sarà una grande occasione anche di turismo di architettura verranno le persone è un'occasione straordinaria io forse vivo a Shanghai da quasi 10 anni quindi questi discorsi sempre da quartiere mi sembra il villaggio degli hobbit quando fuori c'è il mondo con la terra di mezzo ma è un'occasione straordinaria per il paese 120 milioni di turisti cinesi soltanto 6 milioni sono venuti in Italia ma è inutile che ride lei è la verità c'è poco da ridere c'è da piangere e quindi a me dispiace però io sono stata educata ad attenermi sempre ai fatti ai dati e ai numeri io ho sentito parlare di 120 milioni di turisti 6 milioni di cinesi no no mi dica perché può darsi pure che abbia inteso male sto dicendo una cosa diversa io ho detto che l'anno scorso 120 milioni di cinesi sono usciti dalla Cina per andare all'estero allora mi scusi io qua però non posso accettare perché questi sono numeri allora l'Italia finita la seconda guerra mondiale era la prima meta del turismo internazionale adesso è scivolata al settimo posto per la responsabilità di una certa classe però Expo può far bene al turismo ma tutto può far bene se è fatto bene però se invece dobbiamo fare allora fermatevi un atto io scusi non sono in studio per me è difficile quindi voglio dire che hanno perfettamente ragione gli agricoltori probabilmente nel portare avanti le loro istanze ma non è l'occasione forse di Expo quella di tirare fuori queste polemiche è chiarissima la posizione di entrambi è chiarissima la posizione di entrambi dopo la pubblicità voglio sentire che è successo delle aree Expo qua da in mezzo ai ragazzi che ancora hanno parlato di radio Polifemo Yulm a tra poco state lì ben tornati Stefania Sirtoli alla postazione web allora da Facebook un Expo pessimista un Expo ottimista Giancarlo che dice tutte le promesse considerando tutte le promesse non mantenute lo stato di avanzamento dei lavori in generale penso che bisognerebbe escludere l'Italia a priori da qualsiasi assegnazione per i prossimi dieci anni esagerato Fulvio invece dice che credo dovremmo essere tutti un po' meno disfattisti è una vetrina importante sono certo che nonostante tutto l'impegno dei milioni di italiani onesti nel fronteggiare la guerra quotidiana meriti il giusto tributo dell'Expo aggiungo anche che non è rifiutando la candidatura che si risolvono i problemi abbiamo qua i ragazzi di radio Radio Polifemo che radio è? Radio dell'Università Yulm ok è una radio web che fate voi esatto quindi elaborate anche delle domande che voi portate in studio esatto allora che domanda faresti a Daniele Zibetti di Shanghai che sta seguendo la nostra puntata tra l'altro ecco Daniele in pubblicità eri al telefono con qualcuno con chi parlavi alle 4 del mattino saranno cavoli suoi dice la Stefi saranno cavoli suoi c'ha ragione la Stefi probabilmente però già che sai io sono un po' curioso eh no in realtà stavo ascoltando dei messaggi vocali su WeChat Whatsapp questi strumenti sono molto comodi ecco allora la domanda te la faccio io abbiamo visto magari ora rivediamo ancora un po' lo stato dei cantieri praticamente a 24 ore fa che ne è stato dell'area Expo di Shanghai che è successo a 5 anni dall'evento ecco allora dirò una cosa che però spero che non venga utilizzata poi in modo strumentale cioè oggettivamente oggi l'area Expo di Shanghai è un po' una terra di nessuno nel senso che probabilmente ignoro se vi fossero evidentemente delle aspettative di riutilizzo maggiore sinceramente l'albergo che era stato fatto lì vicino non ha mai avuto grandi flussi turistici la zona è sempre rimasta poco utilizzata pur ecco non vorrei che questo venga utilizzato poi come strumento per criticare queste forme di esposizione a priori eccetera io credo che sia forse purtroppo anche un po' una conseguenza naturale cioè c'è un tal flusso e un tal entusiasmo nel periodo in cui l'evento viene realizzato che è abbastanza naturale che poi quando l'evento finisce quella zona abbia un po' una sensazione di ma sì ti faccio fare una domanda dai ragazzi prego hanno trovato lavoro i giovani dopo Expo a Shanghai sono stati coinvolti? io ho una visione devo mettere un pochino limitata perché lavorando principalmente sull'asse tra Europa in particolare Italia e Cina non ho una visione così concreta di quelle che possono essere stati opportunità per i giovani cinesi certamente i giovani stranieri hanno trovato opportunità durante il periodo dell'Expo e poi sono anche tornati indietro Daniele ti possiamo tenere un altro po' ti dobbiamo salutare vista l'ora scusa? possiamo tenerti un altro po' dobbiamo salutarti vista l'ora io guarda ho un aereo tra due ore va bene dici tu quando ti do noi finiamo prima una domanda dei ragazzi ai politici studio si è parlato tanto di futuro una grande opportunità Expo ci è stato donato quindi siamo molto contenti ma non profuma di futuro nel senso che i giovani non sono stati coinvolti in questo Expo di Milano questo cosa vuol dire che sono stati coinvolti solamente in maniera volontaria non c'è stato uno sbocco lavorativo non siamo stati presi in considerazione perché è stata fatta una campagna pubblicitaria enorme nelle metropolitane sugli autobus vieni a lavorare vieni a collaborare come volontario a Expo sarà un'occasione fantastica ma chi è rimasto qua a studiare apposta per questo non ci sono dentro aziende che hanno investito nei giovani tu dici forse i moratori hanno trovato lavoro forse gli elettricisti per i collaudi forse gli idraulici ma coloro che hanno fatto comunicazione ma ora cosa dice? i collaudi non si faranno va bene a parte quello allora poi abbiamo Giulia si prego però guardi noi all'università sono tre anni che ogni lezione inizia dicendoci nel 2015 ci sarà Expo e voi siete protagonisti di Expo sarete protagonisti di Expo a questo punto però il nostro problema è un altro questo essere volontari ci porta tra virgolette a perdere delle ore di lezione all'universitaria per andare a fare i volontari all'Expo adesso come adesso c'è poco da fare perché abbiamo visto che per quanto riguarda la costruzione siamo molto indietro dal punto di vista sociale invece sì c'è un po' di comunicazione i giovani sono un pochino integrati fortunatamente però i giovani di Milano si muovono anche autonomamente diciamo ci sono dei giovani delle crew di Milano che hanno organizzato degli eventi contemporanei e anche molto legati ad Expo sono degli eventi che si svolgeranno durante i pomeriggi parallelamente a low cost però senza che Expo aiuti Fiorucci diamo una risposta a questo cioè loro dicono i giovani non sono stati coinvolti abbastanza è un'impressione secondo lei personale o può essere che sia veramente così o sempre rientra nel pessimismo di cui parlavamo prima adesso dobbiamo essere ragionevoli non è che si possono coinvolgere dei giovani in una struttura e in un progetto simile ci sarà spazio per i giovani anche quando sarà aperta l'Expo perché saranno assunzioni tutti avranno bisogno di manodopera tutti avranno bisogno di presenza per cui non possiamo aspettarci adesso coinvolgimento dei giovani quando ancora la struttura non è finita noi abbiamo detto che i giovani si stanno muovendo anche da soli questa è la cosa perfetta vorrei dire che queste vostre iniziative che io applaudo a scena aperta sono la dimostrazione di come ci sono delle risorse nei giovani come anche negli artigiani negli operatori che hanno colto lo spirito Expo probabilmente avete ragione voi quando dite che l'Expo poteva e doveva fare di più per coinvolgere i giovani e questo lo esamineremo in sede di bilancio perché l'Expo non è che sia una cosa perfetta ma io applaudo e dico che questo vostro è lo spirito giusto che avete usato voi ma hanno usato anche tanti comuni di Lombardia hanno usato anche tante categorie economiche sono migliaia gli eventi cosiddetti del fuori Expo che animeranno sei mesi 180 giorni di eventi straordinari che renderanno magica io mi auguro agli occhi del mondo l'immagine dell'Italia e di Milano questo sarebbe la riuscita migliore di Expo e il nostro evento diciamo l'evento giovanile di social music dance contemporaneamente a Expo cos'è la social music dance per chi non sa sono appunto sono delle serate dei pomeriggi con degli artisti fantastico voi dovete chiedere ad Expo se ancora non l'ha fatto di mettere in tutti i media la notizia di queste vostre iniziative noi nel nostro piccolo ci stiamo provando Oliverio da Roma Oliverio vedo che sta lasciando il Oliverio che sta facendo sta dando l'auricolare a qualcun altro ha perso l'auricolare c'è un problema forse allora sentiamo Morra su questo i giovani è un'opportunità come dice Formigoni beh allora premesso pure io sono contento se un ragazzo inizia per conto suo a pensare con la propria testa cosa posso fare però sono anche dell'avviso che se una funzione lo Stato ce l'ha e lo Stato c'entra molto in Expo è appunto quella di mettersi al servizio anche e soprattutto dei suoi giovani concittadini per cui sì benissimo questa autoimprenditorialità che da sola viene proposta però buon dio insomma tutte queste spese per comunicazione da parte di Expo perché non hanno visto per esempio i giovani protagonisti i giovani hanno creatività hanno fantasia e magari hanno anche studi che non possono valorizzare perché ci sono sempre gli anziani che arrivano prima ci sono sempre le agenzie di comunicazione che lavoravano già magari con la precedente giunta regionale non lo so magari con qualche altro ente che debbono essere sempre prioritariamente preferite io credo che anche questa occasione potesse essere gestita diversamente forse andrà bene anzi io me lo auguro che vada benissimo però vorrei uno stato che sia a disposizione di tutti e in particolar modo di chi ha meno chance anche perché non è detto che a priori loro ne sappiano di meno può essere pure che messi alla prova possano lavorare meglio di tanti altri io ho letto cifre dati in merito a cosiddetti creativi digitali che hanno avuto degli incarichi profumatamente retribuiti che francamente mi hanno lasciato straordinariamente perplesso però io non posso non sono la magistratura ricordo che su altre vicende relative proprio alla realizzazione fisica di Expo la magistratura è intervenuta bisognerebbe forse ricordarsi sempre che si tratta dei soldi dei contribuenti italiani in larga misura io vorrei inserire nel nostro dibattito ancora i nostri ricoltori vorrei che mi voi mi diceste in un minuto anzi meno uno dei temi di cui dovrebbe parlare Expo cioè facciamo una proposta prima mi avete detto tante di cose diciamone una la proposta è molto semplice dire la verità agli italiani allora sia la politica che i sindacati stanno mentendo allora se è vero che è bella l'architettura di Expo è anche vero che avete intitolato l'alimentazione allora l'alimentazione è questa qua questa qua questo è mais coltivato in Italia questo qua è mais viene dentro da tutto il mondo perché il nostro mais viene trinciato dato da mangiare OGM free è dato spieghiamo cosa vuol dire OGM free organismi geneticamente modificati che vengono praticamente coltivati dal resto del mondo anche 5 paesi in Europa lo fanno noi non siamo né contrari né a favore perché non siamo ingegneri non siamo neanche dottori però vogliamo solamente dire una cosa come mai non si mette l'etichetta sul cibo che si vende la libertà di un popolo è quella di andare a comprare il mangiare di tutti i giorni della famiglia e sapere cosa si compra come mai noi siamo proibiti di seminarlo spendiamo 7-800 euro a ettaro in più perché concimi mangimi diserbanti e tutto che costano di 100-150 euro anche al chilo e poi ci troviamo a vedere la nostra roba mescolata con tutto il letame che viene e mi prendo responsabilità di quello che dico con tutto il letame che viene da tutto il mondo e il cittadino italiano lo deve mangiare senza saperlo allora se le associazioni sindacali e i politici si danno da fare anche il signore è là che dice che è agricoltore come mai nessuno muove un dito sarebbe un riverio per mettere un riverio è un ricoltore lei allora come mai non fa niente per mettere su sull'etichetta OGM OGM free è libero e anche lei è agricoltore o solo suo papà perché mi ricordo il discorso che abbiamo fatto prima sono anche io agricoltore perché il papà non ce l'ho più sono un viticoltore ah il vino in ogni caso vorrei vorrei in ogni caso vorrei far far presente che le battaglie che abbiamo fatto in questa fase contro gli OGM sono battaglie che hanno dato i primi risultati tanto è vero che in occasione del semestre europeo abbiamo ottenuto la possibilità di non seminare OGM qui in Italia è la nota romina noi non possiamo seminarlo ci state massacrando non possiamo e come mai lo importate perché lei vuole difendere lei vuole difendere la soia lei vuole difendere l'etichettatura e poi vuole portare gli OGM in Italia noi siamo contro le culture OGM noi siamo per l'etichettatura per la tracciabilità degli alimenti e vogliamo che nell'etichetta ci sia la storia di quel prodotto perché la soia è in Italia la cultura italiana è caratterizzata da prodotti di qualità e noi dobbiamo difendere i prodotti di qualità una battuta veloce una battuta veloce di facchini con le grandi ad Expo si parlerà di questo perché a me interessa capire questo tema che non riusciamo evidentemente a finire in 5 minuti alle 10 e 15 in diretta perché è un tema enorme ma Expo parlerà di queste cose ecco questa è una domanda molto puntuale anche alla luce delle rassegne recenti delle Expo delle idee che francamente come dire stupiscono essere state realizzate così a ridosso dell'inizio della manifestazione secondo me tradendo anche una non come dire completezza di contenuti della manifestazione temo che argomenti come questi possano anche essere trattati ma con un conflitto poi anche qui mi darà il dottor Fiorucci mi darà del pessimista però corro il rischio con il rischio come dire potenziale di un conflitto di interessi tra i sostenitori e gli sponsor dell'Expo con determinati temi penso a un soggetto come Coca-Cola invito il dottor Fiorucci a venire con me in un piccolo paese africano che si chiama Swassiland inglobato nel Sud Africa dove Coca-Cola che è sponsor di Expo e quindi che si propone come l'alfiere del nutrimento del pianeta in maniera condivisa ha delle immense coltivazioni di canna da zucchero per il proprio prodotto che con la sovranità alimentare e con la sicurezza alimentare di quel paese hanno poco a che spartire quindi oltre a un dal mio punto di vista un baratro ideale di Expo tant'è vero che a Expo dell'Idee mancava addirittura la traduzione in inglese come ebbe a dire il console del Bangladesh seminando lo sconcerto tra i presenti rischia appunto di avere come dire un deficit poi di credibilità ed è per quello che prima parlavo della coerenza del contesto con gli ideali trattati quindi Facchini dice di cosa parliamo quando Coca-Cola è main sponsor di Expo giusto? allora dopo la pubblicità visto che l'hai tirato in mezzo sentiamo la risposta di Elio Fiorucci posso dire al volo che l'Expo non è un convegno politico non è un'organizzazione che deve tirare delle conclusioni ho detto dopo la pubblicità quindi è un luogo in cui tutti portano le loro idee la loro testimonianza deve essere questa libertà di portare avanti le proprie idee e ci sarà a tra poco bentornati Stefi cosa succede sul web? abbiamo due tweet proprio sul tema uno è di Simone Spezia che è un collega e conduttore di Radio 24 che scrive mi sarebbe piaciuto che ad Expo si apresse un dibattito franco privo di pregiudizie scientificamente fondato sugli OGM ma non ne vedo i margini e poi c'è un tweet invece di un addetto ai lavori perché in realtà è un allevatore sono andato a vedere sul suo profilo e si chiama Garbarino Expo 2015 i valori incarnati dagli sponsor principali sono la causa fondamentale della fame che spinge i popoli ad emigrare così drammaticamente adesso ci arriviamo anche a quello però vorrei un commento di Elio Fiorucci a proposito di quello che diceva Facchini cioè attenzione perché parliamo di una manifestazione che ha come main sponsor Coca Cola questo può essere un punto di discussione o rientriamo al pessimismo che citava prima all'inizio della puntata ma io non credo che sia il problema la pubblicità della Coca Cola caso mai ci sono altre pubblicità che danno fastidio alla produzione della carne italiana quello sì quando si parla di McDonald's McDonald's non ha carne italiana è carne che viene da fuori ed è quella che viene pubblicitata dentro l'Expo per cui quello lì mi sembra una cosa un po' anomala quello che invece io credo che bisognerebbe fare un altro ragionamento cioè vedere di proteggere l'agricoltura italiana da tutti quei veleni che vengono comprati all'estero vengono comprati in America così per rendere la nostra agricoltura più naturale più autentica e più se vuoi onesta e questa è la nostra strada noi dovremmo essere un paese di qualità di eccellenza e evitare tutto quello che invece vuole diventare superindustriale perché non saremo mai superindustriali noi abbiamo il miglior vino del mondo secondo me ancora meglio di quello francese abbiamo i migliori formaggi del mondo che se ne dica abbiamo qualunque cibolo se lo vogliamo analizzare io sono molto amico di persone che producono queste cose dicono guarda l'eccellenza che noi riusciamo a dare ecco quello che a me dispiace è che non si reclamizzi questo questo era l'obiettivo cioè parlare di eccellenza di qualità e di cibo cose che hanno fatto il successo dell'Italia come lo ha fatto la boda perché noi siamo nati così siamo nati per fare poco e fare bene purtroppo non possiamo trasformarci in McDonald's non possiamo trasformarci in Coca Cola e lo deve dire ad Expo lo deve dire ad Expo ecco questo riconosce anche il tweet di prima sul social network cioè la contestazione documentata rispetto alla credibilità dagli sponsor mi sembra che su questo lei sia d'accordo io sono d'accordo cioè alla fine io trovo che alla fine quello che forse manca all'Expo è stata una specie di etica di comportamento essendo una manifestazione che nasceva in Italia è vero che deve comprendere tutto il pianeta il tema era molto più ampio il mantenimento del pianeta difesa del pianeta nutrimento del pianeta allora io io vorrei fare un passo avanti e prima di farlo fatemi però salutare Daniele Zibetti da Shanghai che so domani mattina anzi tra pochissimo partire per l'Italia una cosa che ti manca del nostro paese di il cibo così chiudiamo bene sì no ma tante cose l'Italia è un paese meraviglioso che deve solo volersi un po' un po' bene secondo me quindi credo che vorrei solo fare una domanda di un secondo perché sono veramente onesti in questa domanda ma come diceva giustamente prima anche le donne formigoni ma l'Expo avrà poi all'interno credo in sei mesi dei seminari di approfondimento e di dibattito cioè vogliamo portare questi temi così delicati come il macro tema di un evento che necessariamente deve essere un evento anche un po' pubblicitario un po' di rilancio cioè almeno da questo punto di vista siamo tutti dalla stessa parte e poi ci saranno credo dei momenti di discussione di approfondimento anche fatti con gli specialisti del caso credo che questo debba essere lo spirito giusto e che tutti i paesi hanno perché ogni paese ha le sue contraddizioni gli altri sono molto più spesso più abili a tenersene per sé e non mettere sempre grazie Daniele grazie Daniele Zibetti da Shanghai posso rispondere di no per dirgli che ci saranno centinaia e centinaia di dibattiti in cui si confronteranno le diverse tesi ho detto prima non è un avvenimento politico per cui alla fine bisogna per forza votare un documento però noi abbiamo fatto un lavoro preparatorio sono orgoglioso di averlo cominciato io perché fu io a redigere il primo documento programmatico che ebbe la firma della loro Presidente del Consiglio che era Mario Monti della loro Presidente della Commissione Europea che era Barroso dell'allore attuale segretario dell'ONU che è Ban Ki-moon un documento strategico non troppo lungo 20 cartelle con i punti fondamentali noi stiamo ricependo le risposte che arrivano dai diversi paesi e sarà sottoposto anche ai cittadini perché sarebbe la prima volta che un Expo comunque termina con un documento di impegni largamente condiviso dalla maggioranza dei partecipanti un'ultima cosa nel salutare il nostro amico da Shanghai vorrei ricordare un altro evento per cui l'Italia non deve martellarsi sempre in testa il padiglione italiano a Shanghai è stato il più visitato dopo quello della Cina ecco perché i cinesi hanno deciso di non abbatterlo non hanno abbattuto quello cinese non hanno abbattuto quello italiano e quello di un altro paese non hanno abbattuto quello italiano perché è il padiglione che è piaciuto più di tutti ai cinesi quindi talvolta le cose sappiamo farle bene e mi auguro questo sia un viatico positivo per l'Expo che si inaugura tra dieci giorni grazie Daniele Zibetti da Shanghai io però vorrei ricordare a tutti che in questo momento soprattutto dopo quello che è successo negli ultimi giorni nei mari e nelle coste italiane e libiche c'è un problema legato all'immigrazione in questo paese e come viene gestita e riguarda anche Expo perché per esempio regia fatemi vedere la grafica 1 c'è l'assistore al welfare di Milano che dice ma cavoli noi no all'Expo con i profughi per strada posti esauriti nei centri comunali con 1300 arrivi censiti palazzo Marino dall'ultimatum al governo vertice sulla sicurezza con Alfano in prefettura ecco questa è la preoccupazione di un assessore ma non è non è l'unico insomma cioè siamo in grado di fare un Expo e un giubileo con le guerre alle porte e questo porta anche a un problema legato alla sicurezza alle persone che non si sentono sicure ma non lo dico io lo ha detto e adesso lo sentiamo il presidente di Expo Sala che ha parlato addirittura di scuole che stanno disdicendo la visita Expo per problemi di sicurezza sentiamo le sue parole il video 4 abbiamo avuto delle disdette da scuole che avevano prenotato e avendole richiamate in quota molto piccola però bisogna stare attenti ai piccoli segnali e avendole richiamate e chiedendo perché dicevano queste poche scuole hanno detto tutto la stessa la stessa cosa le mamme sono preoccupate della sicurezza allora ognuno può fare il suo lavoro ognuno fa il suo ruolo ecco secondo me se cominciamo e continuiamo a passare questa idea dell'Expo insicuro questo sarà il risultato poi magari qualcuno sarà contento io no perché sono convinto che in realtà non solo stiamo facendo molto ma sfido tutti a dimostrare che la visita all'Expo è più insicura di altre realtà in cui la gente è raggruppata allora il biglietto da visita di Expo sarà questo problema dei profughi intanto vediamo i dati Steffi allora questa è un'elaborazione che è stato un grafico che è stato appunto elaborato dall'internazionale oggi è stato diffuso anche attraverso il web e sono i numeri di migranti sbarcati sulle coste italiane dal 2006 al 2015 valutati in migliaia allora noi vediamo appunto questo grafico e il dato più eclatante è quello del 2014 170.100 lo vedete è la colonna più alta e lo è molto più alta rispetto agli altri anni quest'anno però in soli quattro mesi diciamo tre perché aprile non è ancora valutato sono già 26.536 ovvero praticamente quasi quanto in un anno nel 2006 e il doppio rispetto al 2012 Oliverio siamo in grado grazie Steffi di gestire Expo e il prossimo giubileo con questa emergenza che è innegabile non riusciamo a capire come viene fuori perché la cronaca sta mille volte avanti rispetto alle opinioni della politica io chiedo intanto un supplemento per una precisazione di prima ma il fatto che mi trovo in uno studio collegato crea difficoltà anche a intervenire volevo si parlava prima della Coca-Cola noi come partito democratico non abbiamo avuto mai il timore di dire le cose così come stanno abbiamo fatto una grande battaglia anche contro la Coca-Cola contro tutte le multinazionali delle bollicine quando abbiamo affermato con forza che bisognava innalzare il succo di arancia nelle bibite analcoliche a base di frutta e l'abbiamo fatto con forza questa battaglia sapendo le difficoltà che c'erano e l'abbiamo vinta in Parlamento e ora anche quelle società poi non capisco anche come mai si trova così sorridente il collega Morra anche quelle la Fanta per intenderci ora dice c'è scritto nell'etichetta che è contenuto di frutta al 100% italiano questa è una battaglia che abbiamo vinto a favore di un territorio che è quello meridionale ma per quanto riguarda i flussi migratori ecco i fatti che sono successi in quest'ultimi giorno nel canale di Sicilia impongono a noi una domanda se l'Europa è quella che noi immaginavamo se l'Europa di De Gasper di Schumann insomma è quella di oggi cioè bisogna capire un pochettino come l'Europa ha lasciato solo l'Italia ad affrontare un tema che non è solo italiano e questo è un'osservazione che dobbiamo farlo una riflessione siamo lasciati soli ma mi dice se siamo in grado di gestire e ha fatto bene ma credo che oggi in Italia ovviamente non si può essere superficiale però credo che in Italia ci sono le forze dell'ordine c'è l'intelligence c'è un'organizzazione dello Stato così forte che può anche contrastare con efficacia questi fenomeni io mi auguro che non succeda niente ma occorre anche avere un ottimismo nella vita e il pessimismo che sto notando in alcuni interventi mi sconforta un po' perché noi dobbiamo far capire anche che c'è un'Italia diversa con Expo c'è un'Italia che lavora un'Italia che sa creare e sa fare l'Italia siamo in grado di gestire questa emergenza abbiamo la pubblicità giusto? mi dica solo se siamo in grado di gestire l'emergenza profughi insieme a Expo il Giubileo un sì o no poi lo faccio spiegare dopo l'ubblicità non siamo in grado di gestire le emergenze purtroppo io vorrei che gli sforzi di tutti seri fossero finalizzati alla rimozione delle radici che originano le emergenze mi spiega adesso dopo l'ubblicità tra poco allora eravamo con Mora stavamo cercando di capire ben tornati a Funambuli come tutti i lunedì sera siamo qua fino alle 23 stavamo cercando di capire se siamo in grado di gestirlo a questa emergenza profughi che dai dati che ci ha fatto vedere Stefania non potrà che aumentare siamo praticamente a maggio arriva l'estate il bel tempo c'è Expo ci sarà il giubileo qual è il problema di questo paese nel gestire queste cose il problema di questo paese è che lo Stato troppe volte non controlla il territorio noi sappiamo per esempio e questo lo hanno accertato diverse inchieste della magistratura che questi flussi ad esempio sono anche permessi da persone che sono in Italia che fungono da basi logistie per quelli che arrivano perché ci sono tanti che fanno i soldi con l'arrivo di questi disgraziati loro in larghissima misura sono disgraziati in molti casi hanno diritto secondo la legislazione internazionale vigente ad accedere al nostro paese in altri casi no a nostro avviso ad avviso del movimento il tutto va affrontato in maniera molto molto netta si deve prima ancora che si mettano sui barconi questi disgraziati si deve bloccare tutto si deve sulla linea di costa nord africana fare una sorta di ufficio di controllo di gestione magari delle istituzioni europee non si deve lasciare sola l'Italia o la Spagna o la Grecia a fronteggiare questa emergenza che è cronica si deve fare in modo poi che questi disgraziati una volta che sono qua queste persone che non vengono per stare in Italia ma vengono perché magari vogliono ricongiungersi ad un parente che è in Belgio che è in Francia abbiano la possibilità se lo vogliono bisogna ripensare il sistema delle quote e bisogna anche intervenire a favore di quelle fasce della popolazione italiana locale che troppe volte si vede quasi quasi preferita l'altra persona tutto questo genera odio l'abbiamo visto a Roma a Tor a Tor Bellamonaca insomma abbiamo visto degli episodi di razzismo e tutto questo è voluto da quella classe politico-mafiosa che con Buzzi e Carminati ha fatto i soldi anche sugli extracomunitari e poi dico anche questo domandiamoci perché milioni di esseri umani vogliono abbandonare i loro paesi io ricordo a tutti visto che siamo in tema perché c'è anche un esponente di una prestigiosa organizzazione ecclesiale che una pace a Minterris dovrebbe essere oggetto di riconsiderazione da parte di tanti in quella enciclica si sosteneva che forse si deve far giustizia se si vuole pace questi enormi flussi di popolazione sono determinati magari dalla disgraziatissima opera di multinazionali che come si ricordava prima vanno in Africa sfruttano quindi condannano milioni di esseri umani alla miseria all'ignoranza e questi esseri umani individuano semplicemente nell'andar via dal loro paese d'origine la via di fuga io ricordo a noi italiani che l'ENI ha delle responsabilità enormi su quello che sta avvenendo per esempio in Nigeria i campi petroliferi gestiti da l'ENI le mazzette pagate da l'ENI per classi dirigenti e il caso di Saipem con il governo Angelino ci sono delle inchieste in corso per cui do fatti do fatti su cui la magistratura sta intervenendo benissimo tutto questo produce ulteriore ingiustizia lì dove non c'è la possibilità di vivere decentemente è ovvio che tanti partono ricordiamoci che noi italiani a fine ottocento e per tanti anni del novecento siamo stati noi degli emigranti ricordiamoci anche che quando andavamo negli altri paesi però eravamo tenuti a rispettare le regole ma se in Italia se in Italia se a Milano città da cui trasmettiamo in un tribunale si può impunemente ammazzare beh allora qualche perplessità sulla gestione delle emergenze c'è perché perché il nostro Stato è purtroppo uno Stato largamente deficitare lei ha messo in mezzo Formigoni lo devo far rispondere però prima vorrei sentire Fiorucci siamo in grado la stessa domanda anche a lei di portare avanti Expo e Giubileo quando i dati sono quelli e le stragi anzi scriveva la Siena e Agneri più che un genocidio è quello che succede nei nostri mari è difficile dare una risposta di questo tipo io credo che dipenda tutto dal governo dipenda tutto dall'organizzazione perché mi sembra impossibile che un paese come l'Italia non sia in grado di accettare due manifestazioni importantissime per dovessimo chiudere tutti i confini per evitare che succeda qualche cosa cioè mi sembra quasi una questione comica ma allora non facciamo il Giubileo non facciamo l'Expo perché non siamo in grado di guardarci quello che dobbiamo guardarci l'abbiamo vinta anche all'Isis così non facciamo nulla però l'abbiamo vinta anche all'Isis ai terroristi allora alla fine mi sembra che stiamo ragionando di qualche cosa che non è quasi pensabile e ragionabile cioè siamo un paese che si deve chiudere dentro dobbiamo tirare su una grande cosa per evitare qualunque arrivo di chiunque perché chiunque può essere è chiaro posizione chiarissima Formigoni allora distinguiamo due problemi un problema è l'immigrazione e un problema è i casi di violenza tipo tribunale di Milano immigrazione noi siamo presenti siamo in presenza del più grande fenomeno immigratorio della storia moderna in questo momento in Turchia che è un paese vicinissimo all'Unione Europea ci sono due milioni duecentomila profughi che derivano particolarmente dalla Siria in Europa complessivamente non si arriva al milione di immigrati cioè abbiamo una decina di milioni di africani già presenti o in Libia sono due milioni o nei paesi vicini e altri milioni premono dalle zone subsahariane perché scappano dalla guerra e dalla fame questo è un fenomeno che ha mille cause ma è un fenomeno epocale una civiltà occidentale l'Europa le nazioni occidentali le loro complesse che cosa vogliono fare di fronte a questa situazione torno a dire questa è gente che scappa dalla fame e dalla guerra però trova una tragedia ancora in più arriva sulle coste libiche che sono le più vicine all'Europa e trova dei malfattori dei delinquenti dei criminali che li sfruttano ulteriormente io ho chiamato ieri questi scafisti gli schiavisti dell'epoca contemporanea e oggi il termine è stato ripreso da tutti come li fermiamo? peggio ancora di quelli dei secoli scorsi perché nel secolo scorso per essere pagato tu lo schiavo dovevi portarlo a destinazione lo dovevi consegnare e doveva magari anche essere in buona salute che te lo pagavano di più adesso invece questi si fanno pagare prima e li mandano al macello allora io dico che l'Europa e il mondo occidentale ha il dovere che fino adesso non ha compiuto di farsi carico di questo problema bisogna intervenire in quelle terre ma una parte di questa gente per forza dovrà trovare accoglienza in Europa e nel nuovo mondo questo è un discorso di puro realismo non dobbiamo dire che qui possiamo riceverli tutti perché questo è falso è buonismo tragico ma per forza le quote di persone che verranno saranno superiori a quelli degli anni scorsi allora tutta l'Europa non soltanto l'Italia deve farsi carico di questo problema perché ripeto è un problema drammatico vuoi fare il blocco navale? no allora attenzione attenzione oggi finalmente l'Europa ha preso la prima posizione ha detto al primo punto del decadogo che sarà sottoposto ai capi di stato di governo giovedì c'è la distruzione dei barconi anche qui mi ero permesso di suggerirlo ieri la distruzione dei barconi la si fa o con il blocco navale o con l'intervento da terra o con i droni purtroppo Obama ha detto settimana scorsa a Renzi che non vuole dare i droni bisognerà spiegare ad Obama che il blocco navale l'intervento di terra è ancora più pericoloso lei è per il blocco navale per i droni io sono per un sistema che nell'immediato distrugga le barche e radichi a zero le basi di questi schiavisti scafisti che sono peggio dei terroristi punto primo punto secondo bisogna mettere in campo degli aiuti forti nei paesi africani perché rimanga là il maggior numero di popolazione ma bisogna anche farsi capaci di accogliere qui perché siamo in una situazione ripeto straordinaria poi il problema è sempre come però poi c'è il problema della violenza allora sul problema devo chiedere se è più breve che sono detto monologo gli altri non riescono a intervenire non ho monologo sarò breve sul problema della violenza signori quello che è successo al tribunale di Milano è successo perché è responsabile della sicurezza del tribunale ha lasciato che un accesso fosse senza metal detector c'è una responsabilità precisa c'è un signore che ha un nome e un cognome che è responsabile di non avere vigilato perché ci fosse il metal detector perché sotto il metal detector negli aeroporti passano i ministri e i presidenti anche gli avvocati e i giudici devono passare fermo perché abbiamo il tempo di parlare del tribunale di Milano anche se l'avete tirato fuori c'è Oliverio da Roma che da poco mi chiede la parola prego mi sente? vabbè sì sento sì mi aveva chiesto la parola prego dunque il problema di quello che è successo nel canale di Sicilia è un problema che riguarda la responsabilità di tutti i paesi europei riguarda soprattutto la responsabilità dell'Europa io voglio capire qual è la soluzione però perdonatemi perché iniziate facendo tutti l'analisi la soluzione qual è? due numeri la soluzione è che l'Europa deve battere un colpo in più il presidente del consiglio ha chiesto il consiglio d'Europa e su questo credo che bisogna farlo subito perché è necessario dare risposte noi dobbiamo rendere sicuramente noi dobbiamo dare un grande tributo di ringraziamento a tutti i nostri volontari a tutte le forze politiche a tutte le forze di polizia per il lavoro che hanno fatto ma credo che da solo non bastiamo l'Europa deve fare uno sforzo in più non è un problema di egoismo dell'Europa è un problema invece di altruismo perché noi dobbiamo tentare di dare una mano a questi paesi ma credo che dobbiamo guardare anche con grande attenzione a quello che è successo e succede ancora in Libia quello che succede nel centro Africa quello che succede in tutti e poi dobbiamo fare una sintesi e trovare anche una soluzione morra morra io vorrei ricordare ad Oliverio che tanti esponenti del suo partito in particolare a Roma sono rimasti coinvolti in uno scandalo che vedeva anche di mezzo le cooperative scandalo relativo appunto anche alla gestione degli extracomunitari a me piacerebbe che si facesse qualche bella commissione d'inchiesta per esempio sulla gestione dei CIE e dei CARA magari anche quello di Crotone quello di Sant'Anna e non piuttosto l'istituzione della giornata nazionale della memoria l'ho ascoltata per favore pretendo questa attenzione mi dispiace pretendo l'ho ascoltata qui sono anni che si fanno parole e basta il trattato di Dublino che è la camicia di forza che sta producendo queste schifezze è stato firmato nel 2013 e governi di centro-sinistra e di centro-destra l'hanno sempre mantenuto in vigore quando sono stati in Europa questi signori non l'hanno messo in discussione io ricordo che nell'ottobre del 2013 c'è stata un'altra tragedia e a largo di Lampedusa e la sindaca o il sindaco di Lampedusa aveva chiesto un intervento forte da parte del governo italiano qua abbiamo avuto governi Monti Letta e adesso Renzi e adesso ripiangiamo poi magari fra tre mesi saremo tutti in pace con noi stessi e parlando prossimo nuovamente a piangere c'è la pubblicità ho le scatole piene di questa politica c'è la pubblicità ho il rap ho il rap che riassume le vostre parole di Valesse e le domande dei ragazzi abbiamo davvero pochi minuti poi a me dobbiamo chiudere tra pochissimo se la trasmissione come il solito devo prendere una posizione mischiero con gli agricoltori hanno ragione bisogna valorizzare il made in Italy primario della nostra nazione ok siamo italiani non ci smentiamo mai l'expo di Milano guarda caso non è uguale a quello di Shanghai sì sicuramente ci saranno un sacco di anziani che andranno a vedere perché avete visto l'expo ancora è tutto un cantiere sì siamo onesti poi l'expo è iniziato con la storia degli arresti sì con la storia degli appalti noi guardiamo la sconfitta sugli spalti sì guardiamo la disperazione guardiamo il declino della nostra nazione sì chissà se saremo all'altezza sì saluto i ragazzi di Radio Polifemo per l'esattezza la ragazza che mi sta cecando con la sua bellezza sì continuo fino alla fine sì questa storia spero che non abbia mai un confine allora io mischiero con la gente che diventa isterica quando scopre che il main sponsor guarda caso arriva dall'America Coca Cola Expo io dico no basta vedere che la sigla in borsa è K.O. mi è piaciuta quella degli anziani che guardano il cantiere di Expo selfie venite ragazzi con chi avete deciso di farlo dov'è il microfono avete mollato dal microfono bene mentre cercate il microfono Duccio ce l'abbiamo ce l'abbiamo fermi fermi no così giusto per citare due dati preparatevi però aspetate seguite me preparatevi preparate scusate se disturbo sono il conduttore sto parlando con Duccio arrivo subito citare due dati sul tema dell'immigrazione che sono stati dati prima l'Europa nel 2014 tra rifugiati e immigrati ha accolto 280 mila persone lo 0,7% della popolazione da dicembre l'alto commissariato ONU per i rifugiati ha chiesto ai 28 paesi europei di accogliere ben 130 mila profughi siriani la Germania ne ha presi 30 mila la Svezia 2700 gli altri neanche 5500 la domanda è di che emergenza stiamo parlando perché non vorrei che la logica emergenziale siamo in chiusura la logica emergenziale evita alle istituzioni di affrontare il problema ci tagliano selfie finale perché? giustifichiamolo? perché ci hanno dato dei pessimisti allora abbiamo scelto di farlo con i più grandi ottimisti Fioruccio e Formigoni grazie a Oliverio da Roma grazie a tutti i miei ospiti grazie soprattutto a Mora per una volta abbiamo un 5 stagio da noi grazie grazie agli agricoltori e alla meravigliosa Stefania Sirtori buonanotte ci vediamo settimana prossima ore 21 e 15 ci state con noi un programma in collaborazione con Primi in Europa scegli la qualità dei farmaci Teva